Ancora un pareggio per la Bovalinese che domenica scorsa non va oltre l'1-1 con il Bocale. Un primo tempo che solo al ventunesimo registra la prima azione degna di nota ed è il Bocale a farsi notare con Alderete che conquista la palla e si trova tu per tu con Stilitano che chiude i varchi e lo specchio della porta deviando in angolo il tiro dell'avversario. Subito dopo la Bovalinese a farsi spazio e a servire con un cross la corrente Alvaro che devia di testa ma non trova lo specchio della porta. Un secondo tempo molto più acceso per entrambe le squadre dove al dodicesimo è secondi del Bocale che di testa insacca in rete con un tiro arrivato ai piedi di Estevenot. Al ventiduesimo si giunge al pari con una raisoiata di Giorgi della Bovalinese che sul suggerimento di Marco Romeo batte l'esperto Parisi che non riesce a neutralizzare. Le squadre lasciano il campo a fine secondo tempo con un 1-1.